Sfilano uno ad uno davanti l'abitazione di via Piave a Cosenza per dare l'ultimo saluto alla presidente Iole Santelli davanti l'ingresso del palazzo che ospita la salma della governatrice della Calabria, un cordone di poliziotti e carabinieri che per far rispettare le normative anti-covid hanno posto le transenne per permettere ingressi contigentati. La strada davanti la casa della Santelli è stata chiusa al traffico e la polizia municipale controlla ingresso ed uscita sui marciapiedi. Dai balconi la gente passa e guarda con un velo di tristezza verso il portone. Ad un certo punto la fioraia porta un fascio di rose bianche, la avviciniamo per chiederle da parte di chi non risponde ma ci fa intendere che sono state commissionate da una personalità politica del nostro paese. Arrivano alla spicciolata i compagni di viaggio, in questa breve ma intensa legislatura, Gallo, Tallini, Morrone, Caputo, l'amica Succurro, ognuno di loro ha un pensiero, un ricordo e con il cuore gonfio di emozione si fermano ai microfoni dei cronisti dedicando l'ultimo saluto a Iole. Inaspettata che ci ha atterrito completamente. Sono sconvolta. Iole è una cara amica e desidero ricordarla così. Perdonatemi. La Calabria ha perso una presidente di valore, la prima presidente donna, una persona che aveva tante idee e tanti progetti per la nostra terra. di non dispiacere per tutti i calabresi, ma soprattutto abbiamo perso una persona, un'amica, un'amica che aveva tanta voglia di vivere, tanta voglia di dare. ha dato la vita per la Calabria perché a mio avviso lei se avesse scelto di non fare il governatore probabilmente avrebbe vissuto una vita più tranquilla e invece ha scelto questo sacrificio e ci lascia un grande patrimonio. Qualcuno di loro non se la sente di parlare. Il vicepresidente Spirli si allontana a passo svelto, non rilascia nessuna dichiarazione, provato per la perdita di un'amica, viene confortato dall'abbraccio degli altri consiglieri. Amici e parenti si avvicendano all'interno del palazzo, non riescono a trattenere le lacrime, l'emozione si tocca con mano, prevale la tristezza, lo sconforto e i ricordi dei bei momenti trascorsi insieme. Era combattiva, come la mamma, me la ricordava molto, per cui per me è un ricordo intimo.